In questo incontro parleremo di un argomento molto importante perché interessa molte gravidanze, oggi fino a una gravidanza su quattro, è interessata dal problema di un parto che non avviene naturalmente e per il quale quindi bisogna ricorrere all'induzione. Perché? Normalmente la gravidanza dura 40 settimane e qualche giorno, quindi sostanzialmente sono dieci lune, una luna sono 28 giorni, dieci lune sono 280 giorni e quindi la gravidanza di regola arriva a termine in 40 settimane. 7 per 4, 28. Quando non succede che cosa fare? Ecco, che cosa fare? Oggi di regola si ricorre, quando si è superato agli 7-10 giorni questo termine, si ricorre delle procedure molto semplici di induzione del travaglio, cioè di attivare il travaglio con metodi medici. E questo perché? Perché la placenta, sappiamo, è un organo che dopo un po' funziona meno e il rischio è andando molto oltre che il bambino in qualche misura ne risenta. Questo è lo stato dell'arte oggi. Da alcuni anni, da qualche anno, è subentrato un po' un atteggiamento molto interventista in alcuni centri, soprattutto negli Stati Uniti, fino a pensare di indurre, con metodi farmacologici quindi non naturali, tutte le gravidanze dopo 39 settimane. Quindi, diciamo, quasi una settimana prima del termine dovuto. È uno studio, questo, che è stato pubblicato con grandi onore, ma in realtà ha fatto riferimento a una popolazione nordamericana con un'altissima prevalenza di donne francamente molto sovrappese, obese e di centri sociali molto disagiati. Quindi, con tutta una serie di complicanze come l'ipertensione, il diabete, eccetera. Quindi, la discussione che avremo in questa giornata sarà proprio un confronto tra quello che facciamo noi in Mangiagalli, ma in generale in Italia, e quello che viene proposto in altri paesi. Noi quello che troviamo di grande importanza nel percorso per arrivare in sicurezza alla nascita è quella che chiamiamo la presa in carico, cioè a 35-38 settimane, quindi nella parte finale della gravidanza, abbiamo degli ambulatori dedicati, appunto, a valutare il benessere della mamma e del bambino in funzione del parto. Quindi, ogni volta in cui ci si trova di fronte a problemi che possono essere il bambino troppo grande o troppo piccolo o altri disturbi della gravidanza, allora in quel caso, per prudenza, discutiamo come arrivare al parto senza fare correre rischi nella mamma e nel bambino. Altrimenti, la migliore opzione è quella di lasciare che l'utero e il bambino decidano di nascere quando è il loro tempo specifico. Questa è la nostra ipotesi. Per rendere più interessante, vivo e anche scientificamente e culturalmente importante l'incontro, avremo il professor Pito dell'Università di Bologna che sosterrà l'ipotesi opposta, quindi la fattibilità dell'induzione universale, cioè a tutte le gravidi, a 39 settimane e tre giorni. Quindi ci aspettiamo, sarà un incontro molto vivace, da una parte quello che facciamo, che fa la maggior parte dei centri italiani, dall'altra un'ipotesi recente, con dati anche interessanti da valutare, sulla induzione di tutte le gravide dopo 39 settimane. Grazie a tutti.